Margiotta era un buon giocatore di Serie B, la Padula potrebbe essere un grande giocatore di Serie A, c'è una differenza abissale, quindi sicuramente Margiotta non avrebbe mai potuto ambire la Nazionale Italiana, la Padula secondo me lo può fare. Per lui probabilmente per Margiotta è stata un'esperienza incredibile, un'opportunità incredibile perché ha avuto modo di giocare in una Nazionale, cosa che non avrebbe potuto fare per una Nazionale Italiana, la Padula secondo me lo può fare, lo potrà fare se continuerà questa crescita costante. Quindi laddove io vedo un'opportunità di giocare, di avere una chance, quantomeno per una Nazionale dell'importanza di quella italiana, oltretutto lui ha detto di sentirsi italiano, io aspetterei un attimino. Se un allenatore azzeccasse tutte le formazioni avrebbe 186 punti a fine campionato, o se azzeccasse tutte le sostituzioni, quindi siccome tutti sono umani, non è una macchina, non è una catena di produzione, ma è comunque una serie di scelte fatte sulla base di tante cose che vedi in settimane, a volte si sbaglia la formazione, a volte si pensa che un giocatore possa essere adatto e non rende per quanto uno pensa, e non è il caso di Mandragola, perché Mandragola ha fatto anche una buona partita, ha messo anche qualche pezza dietro. O non si può immaginare che un giocatore come Caprari, ad esempio, faccia la sua venticinquesima partita da otto, ci può stare pure che ne faccia una da sei e mezzo, perché secondo me non è una partita assolutamente insufficiente quella di Caprari, dopo che ha messo un assist goal e ne ha messi altri due nel secondo tempo. Le cose che non sono andate sono le solite cose nostre, eravamo lunghi, eravamo molto lunghi, questo non vuol dire che quando sei lungo lo devi essere da dietro, ma lo devi essere anche da davanti, quindi a volte quando si soffre e si stampa indietro perché gli altri magari ti mettono 180 palloni lunghi, tu devi andare per forza dietro, in quel momento devi correre indietro in tutti quanti, e quindi la squadra si accorcia da dietro, ma si accorcia anche da davanti, quindi la squadra si accorcia anche da